Il direttore di gara dice gentilmente di rialzarsi a Fororgione, Mastrodi, bella apertura sulla sinistra, cross basso di prima intenzione, mette fuori Zorzetto e poi destro di Costarelli, palla che finisce alta, primo scuolo dell'Arcadia. Esiste l'Arcadia con Iannotta, ballo attraverso di troppo basso, Zorzetto, Grelloni, finta di calciare, adesso calcio al giro, Grelloni, vicinissimo all'1-0 all'Arcadia, al minuto 11 del corso del primo tempo. L'attenzione della difesa, Frezzotti supera la barriera, ma supera anche la porta, primo squillo dell'Atina pericolosissimo, da calcio piazzato con Frezzotti. I danni di Finotti, fatte velocemente l'Atina con Cosimi che trova di Lelio, bello l'aggancio del numero 11. Non affronta Capocetti, preferisce andare su Belli che supera la prima pandiscia, poi Capocetti, zona grosso, lo fa partire, Finotti controlla il limite dell'aria! Allo volo, se pallone che si stampa sul palo e poi sulla ribattuta ne approfitta Cosimi che guarda l'assistente, la bandierina rimane giù, passa avanti in Latina. A un minuto dalla fine del primo tempo. Preferito Costarelli dentro l'aria di rigore, ha la meglio Zorro Zieto che va a lancio lungo, non riesce a toccare i loro palloni dei Carolis. Sale anche Mastrodi che si inserisce in mezzo ad avversari, ancora Mastrodi cade dentro l'aria di rigore. Arriva il cartellino giallo per simulazione e poi rosso perché Mastrodi era già munito, costretta da abbandonare nel campo l'Arcadia in 10. Allora, minuto 25 nel corso del secondo tempo. Alzarsi al numero 17, il direttore di gara, allora da difensiva diventa offensiva l'azione per l'Arcadia con Marziali che supera Girolamo, dice sullo pallone. Il direttore di gara fra le proteste dei sostenitori dell'Arcadia. Gli ultimi tre minuti della partita, Costinelli, forte con le mani, Uggeri non la trova, chiusura di Zanetti, prova ad arrivarci De Martini, sa che se la ritrova lì e calcia il volo. Sopra la traversa, occasionissima Arcadia quando mancano tre minuti al termine della partita. Uggeri va lo attraverso nella palla, passa Girolamo e poi Marziali, lo riesce a colpire, si continua a giocare e poi si alza la bandierina dell'assistente dell'arbitro. Si salva in Latina nei minuti di recupero. Boccetti con le mani, Uggeri viene chiuso e arriva il triple cifisco del direttore di gara. Tre punti fondamentali però, il Latina Borghi riuniti che vince con il punteggio di 1-0 contro l'Arcadia, la decide Daniele Cosimi.